Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia, adesso qui abbiamo una Brangley YJ del 1990, come ci è arrivato? Non ci abbiamo ancora messo le mani, ne abbiamo solo visto cosa c'è da fare e a parte l'aspetto estetico che personalmente secondo me è un po' discutibile, ci sono molte non modifiche, anzi correzioni dal punto di vista tecnico, non forse altro che non va al 4x4 e quindi andremo a intervenire a questo punto non ripristinando il suo sistema originale ma con un sistema posilock, cioè a cavo, in maniera tale che è un sistema un po' più ignorante ma è sicuro e più dà anche la possibilità di utilizzare le ridotte solo con le due WD posteriori, questo per ripristinare il 4x4, poi questa Jeep non ha la barra stabilizzatrice che dovrebbe avere, quindi gliela metteremo, non ha una Panhard, ha un assetto fatto un po' con i biscottini più lunghi, insomma quelle cose un po' in economia che a me sinceramente non piacciono molto e poi presenta tutte le problematiche che presenta una Jeep un po' adattata, quindi l'aspetto di manutenzione, freni ai dischi finiti, delle pastiglie finite, le testine di sterzo che sono da cambiare, i ball joint, diciamo che sono tutti interventi che su una Jeep, questo appunto dovrebbe essere 1990 se ricordo bene, sono necessari, cioè chi acquista una vettura di questo genere, questo cliente l'ha pagata abbastanza poco devo dire, deve un pochino entrare nell'ordine di idee che non ha finito lì, perché se la vuole quantomeno sicura e gradevole da guidare e che è affidabile anche, deve pensare di spendere non dico lo stesso importo da questo, ma più o meno ci siamo, certo che è una cosa che può essere fatta gradualmente, non è detto che bisogna fare subito, noi come metodo utilizziamo il fatto di prendere in carico la vettura per una giornata, generalmente le guardo io insieme ai miei meccanici e facciamo una lista di interventi che devono essere fatti come se io dovesse mettere mano alla mia Jeep, tra l'altro anche io un YJ, quindi poi insieme decidiamo una lista di lavori divisa per sezioni con delle priorità che condividiamo con il cliente, che se vuole può fare tutto oppure possiamo farlo un pezzettino per volta, noi siamo veramente specializzati in questo tipo di vettura, un po' per passione mia, io ho iniziato a fare questo mestiere grazie a un semplice appassionato e poi mi sono comprato un YJ che ho tuttora e da lì poi è diventato un lavoro, quindi su questo tipo di vetture siamo senza falsa modesta e piuttosto bravini, pertanto se anche tu hai una Jeep YJ o TJ, quindi insomma vetture che sono un pochino adattate e vuoi capire un po' quale possono essere gli interventi per godertela un pochino di più, magari te la sei già trovata preparata in qualche maniera, io sono a tua disposizione per darti tutti i consigli che vuoi, il sistema migliore per contattarmi via Whatsapp e il mio recapito Whatsapp è 338 7312725, alla prossima!